Sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre perché indagato per maltrattamenti in famiglia ha reiteratamente violato l'obbligo. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Petilia Policastro in esecuzione di un'ordinanza del GIP messa su richiesta della Procura della Repubblica hanno arrestato e posto i domiciliari con braccialetto elettronico un 41enne. L'uomo era stato sottoposto nel mazzo scorso alla misura di divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico all'anziana madre ma in questi mesi ha più volte violato il provvedimento. Da qui l'aggravamento della misura chiesta dalla Procura della Repubblica ed accolta dal GIP per fornire una maggiore tutela alla donna.